Ciao a tutte e tutti da Serie TV Italia. In Turchia, molto legati alla tradizione e al pudore, nei film e nelle serie TV, non vedrete mai dei baci passionali o scene troppo spinte. Queste scene, sono controllate e censurate dalla RTUK, un organo governativo che supervisiona i mezzi di trasmissione. Oggi parliamo della scena di passione, che ha causato alla produzione di Lobbies in the Air. Una multa molto salata in Turchia. Ma scopriamo insieme qual è la scena incriminata. Tutto parte dalle puntate dove Eda deciderà di non ascoltare più le minacce della nonna, intenzionata a rovinare l'Artlauf per vendicare la morte del figlio ad opera di Alptekin. Per questo motivo Eda Yildiz chiederà a Serkan di diventare suo marito. Semia, a questo punto, fingerà di accettare lo sposalizio tra sua nipote e Bolat, e i due giovani inizieranno a organizzare il matrimonio. Ma anche questa volta ci saranno dei problemi tra i due innamorati. Eda e Serkan saranno protagonisti di alcuni fraintendimenti che metteranno in serio rischio la stabilità del loro rapporto. Dai vari spoiler di Lobbies in the Air, si apprende che Eda, in occasione dell'addio al celibato, raggiungerà l'albergo del fidanzato in compagnia di tutte le sue amiche per chiarire le divergenze. In questo frangente la coppia riuscirà a fare pace, tanto da trascorrere del tempo da soli in una camera da letto. Eda sorprenderà Serkan con un audace massaggio, e faranno un bagno nella vasca idromassaggio, sorseggiando del buon vino rosso, e poi i due cederanno nuovamente alla passione. Sarà proprio questa la scena censurata che ha suscitato in Turchia uno scandalo, e ha portato la RTUK a l'organo governativo che supervisiona i mezzi di trasmissione, a multare la redazione. La RTUK ha ritenuto troppo ose la scena di Eda e Serkan nella vasca idromassaggio, in quanto ha oltraggiato il senso comune del pudore. Per tale ragione la produzione della serie TV ha dovuto sborsare una cospicua somma di denaro per pagare la multa, e tagliare la scena per la visione in Turchia. Ma tranquille per tutte le fan di Eda e Serkan, in Italia le scene romantiche non dovrebbero subire nessuna censura. Conoscete altre scene censurate nei film turchi? Se si fate cielo sapere sotto nei commenti. Anche per oggi è tutto, ma non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale, e attivare la campanella per non perdere nessuna novità. A presto da Serie TV Italia.